Come ogni sabato il nipotino Yaio sta con la nonna Mara, oggi anche con il nonno Nicola e si mangia tutto il sandwich. Allora Nonno ti ha mangiato tutta la pasta, tutte le farfalle al sugo. Tu ne hai mangiate un po' e nonno te ne ha scarpetta. Yaio si mangia il suo prosciutto cotto con le patatine. Sandwich. Sandwich nona, sono molto internazionale. Nonno Nicola finisce le farfalle di Yaio e si fa la scarpetta. Mentre il piccolo Yaio è molto internazionale con il sandwich.